In questa edizione del LED News, operazione antimafia Vittoria, sequestrati denaro e armi e arrestati diversi soggetti. La Guardia di Finanza di Catania scopre un deposito adibito a stazioni di servizio abusiva, sequestrati 50.000 litri di gasolio, di contrabbando e arrestati responsabili. Scossa di terremoto questa notte a largo di Siracusa è avvertita in tutta la fascia ionica. Sitine dei lavoratori e il trasporto pubblico locale sottratte dalla Regione Risorse per 26 milioni di euro. In contemporanea con la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, il Sindaco di Catania ha siglato questa mattina un protocollo con l'Università e l'Azienda Municipale Trasporti. Sicilia. Dietro i numeri del disastro ci sono le responsabilità della Regione. Cambiare le cose è possibile. Anche con l'accordo quadro fra quotidiano di Sicilia e classe dirigente siciliana. Il QDS dà voce a professionisti, imprenditori, sindacati, volontariato per promuovere l'occupazione e lo sviluppo. Insieme, per Risorgimento Sicilia. Sostieni la campagna etica. Abbonati. Dal 19 luglio, volare nel bello è di Norma. Territorio, cibo e cultura, il luogo d'arrivo. Norma. That's Sicilia. L'Officina delle Eccellenze. Aeroporto Fontana Rossa Catania. Ex Terminal Arrivi. Format. Rendiamo concrete le vostre idee. Stampa digitale, allestimenti, insegne, cartotecnica, lavorazioni a frese e laser, progettazione e realizzazione in plexiglass. La stampa che prende forma. Entra da Mondo Ragazzi e troverai tante idee per rendere felice il tuo bambino. Mondo Ragazzi è il mondo dei piccoli. Abbigliamento e calzature da 0 a 16 anni con i marchi più prestigiosi. Da Mondo Ragazzi corsi preparto gratuiti, parcheggio riservato, angolo fasciatoio e stanze dei giochi. Mondo Ragazzi, amici d'infanzia. A Catania in via Pola 19, ad Agrigento in via Tenea 22, a Sciacca in via Licata 95 e a Giarra in Corsi Italia 168. Blitz antimafia nel territorio di Vittoria. Armi ed esplosivi, gli obiettivi della squadra mobile di Ragusa e della sezione criminalità organizzata di Catania. Gli agenti hanno eseguito anche numerosi arresti per ordine del Tribunale di Catania su richiesta della procura distretto all'antimafia del capologo Ettenneo competente per queste tipologie di reati. Impegnate anche le unità cinofile nell'operazione di questa mattina. Sequestrata in genti somme, i denari assegni come probabile frutto è l'attività mafiosa. In particolare, gli arrestati hanno imposto forniture e servizi agli agricoltori e al mercato ortofrutticolo di Vittoria. Essorsioni e violenze esercitate con modalità mafiosa in forza della rivendicata contiguità al clan mafioso degli istidari dominante. Dunque, con questa accusa, le squadre mobile di Ragusa e Catania e il commissario di Vittoria hanno arrestato tre persone nell'ambito dell'operazione Box, componente alla famiglia Consalvo. Giacomo, di 60 anni, in passato arrestato per associazione a delinquere di stampo mafioso, traffico di stuofacenti ed essorsione, e i figli Giovanni, 35 anni, e Michael Consalvo, di 26. I tre titolari di aziende per il confezionamento dei prodotti ortofrutticoli, in particolar modo cassette ed imballaggi in plastica, erano temuti dagli altri imprenditori, così da falsare con le loro imposizioni anche i prezzi di mercato. La vendita delle cassette in legno di prodotti in plastica per il loro confezionamento a Vittoria erano da loro controllate e le aziende vittoriesi non potevano comprare in altre città. Le intercettazioni hanno inoltre provato che tre avevano la disponibilità di armi pronte a essere usate contro i disobbedienti. Nessuna cassetta entra qui sul mio territorio senza che io ne sappia niente, aveva detto in un'occasione uno degli indagati. Gli affari più importanti del sangue. Il padre è arrivato a minacciare di morte il figlio più volte per impedirgli di vendere cassette a Vittoria in quanto solo lui poteva farlo, altrimenti gli avrebbe sparato in testa. La paura degli imprenditori vestati dai Consalvo, proprio per la loro contiguità con la famiglia degli stidari, ha permesso ai criminali di acquisire un enorme potere economico. Sequestrate a Giovanni Consalvo titoli e contratti per quasi 450 mila euro, tra cui assegni bancari, molti ai quali firmati in bianco. Innumerevoli le conversazioni registrate tra gli arrestati che hanno provato il coinvolgimento anche di altre persone, sia in ambito familiare sia professionale, una decina delle quali risulta indagata. Da una delle intercettazioni, Giacomo Consalvo si vanta dei suoi contatti con non totori INA. Negli anni 70, dice i suoi interlocutori, fu fatto il suo nome palermitani e in quel periodo le persone di cui parla erano tutti pastori. Nello stesso contesto aggiunge che se un giorno lui dovesse decidere di parlare a un giudice, avrebbe da raccontare molte cose. Una volta all'interno del carcere lo hanno contattato e commissionato il lavoro per conto di otorina, dietro compenso di 20 milioni, soldi questi fatti recapitare successivamente a casa di sua moglie, dopo aver accettato l'incarico e studiato come seguirlo nell'ora d'aria, con una corsa repentina e un salto su un muro che lo separava dall'obiettivo e riuscito a commettere il reato. Un'aria recintata attrezzata come una vera e propria stazione di servizio nella quale veniva venduto gasolio di contrabbando e ciò che ancora una volta hanno scoperto i finanziari del comando provinciale di Catania impegnati negli ordinari controlli a contrasto delle frodi sui prodotti petroliferi. L'operazione delle fiamme gialle è scattata di notte a seguito dei dispositivi di monitoraggio attuati sulle aree del territorio etneo, considerata a rischio di traffici illeciti in quanto abituali luogo di sosta per auto articolati e prossima agli svincoli autostradali. A richiamare l'attenzione agli investigatori e il nucleo di polizia tributaria verso una zona adiacente al centro commerciale Porte di Catania sono stati due grossi auto articolati telonati, sorpresi mentre accedevano a un'area isolata e protetta, due cancelli elettrici ed alcuni cani da guardia. L'intervento dei finanziari ha consentito di sorprendere sul piazzale alcuni soggetti intenti a trasbordare prodotto petrolifero dai camion in grosse cisterne. Le successive perquisizioni hanno portato al sequestro dei due auto articolati di 53.000 litri di gasolio contenuto in un recipiente da 1.000 litri e importato illegalmente dalla Slovenia, del magazzino utilizzato per lo stoccaggio del carburante e delle attrezzature per il travaso del prodotto di alcune cisterne e di un grosso serbatoio dotato di pistole erogatrice e contalitri. I due autotrasportatori, un curato, uno sloveno e altri cinque soggetti catanesi presenti, fra cui il proprietario dell'area, sono stati tratti in arresto per contrabbando. Ancora una volta è stato appurato che gli auto articolati costituiscono oggi il mezzo più utilizzato per il trasporto di prodotto petrolifero di contrabbando, in quanto le autocisterne sono normalmente sottoposte a mirati controlli su strada. Il gasolio è dunque caricato in grossi recipienti a bordo dei camion non telonati e viaggio accompagnato a documenti di trasporto che ne attestano falsamente la natura di olio lubrificante e indicano una falsa destinazione. Questi illeciti, oltre a determinare ingenti perdite di gettito per l'erario, creano un vero e proprio mercato nero dei carburanti, a danno degli operatori onesti, i quali subiscono la concorrenza sleale di chi può abbassare i prezzi, distorcendo in tal modo le regole del mercato. Il prezzo medio di vendita del gasolio di contrabbando, come accertato nell'ambito di numerose indagini, è inferiore di circa 20-25 centesimi per litro a quello praticato dai distributori regolari. Il risparmio per gli utenti, per lo più autotrasportatori, non tiene conto tuttavia dei rischi di danni meccanici che il prodotto di scarsa qualità e non rispondente agli standard di sicurezza può causare. I maggiori profitti di questo traffico illecito vanno ai venditori del carburante, i quali possono contare su un prezzo di acquisto di circa il 60% inferiore a quello della regolare rete di distribuzione. Non vanno infine trascurati gli enormi rischi legati al trasporto, travasi e il prodotto, che avvengono senza alcuna precauzione antincendio e di sicurezza, mettendo a repentaglio l'incolomità anche di chi è intento ad acquistare, ovvero si trova comunque nelle vicinanze. Momenti di paura la notte scorsa nella zona orientale della Sicilia. Alle 0 e 0 e 28 una scossa di terremoto di magnidudo 3.9 ha colpito il litorale ionico a largo di Siracusa e Augusta. La scossa non è stata avvertita solo dalla popolazione a Siracusa e Augusta, ma anche a Catania, Lentini, Carlentini, Floridi, Apriolo, Gargallo, Mineo, Sortino e Avola e numerose altre località. L'epicentro del sismo è stato localizzato dai sismografi dell'Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia a una profondità di 23 chilometri. In Sicilia continua il crollo delle gare d'appalto di competenza regionale pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale e monitorate dal Lancia Sicilia. Nel periodo gennaio-agosto 2015 si è registrata un'ulteriore fressione del numero dei bandi e degli importi posti in gara. La provincia con il peggiore calo è stata a Caltanissetta, mentre vi sono state insolite impennate a Catania. Analizzando le serie storiche annuali complete, emerge che il mercato degli appalti in Sicilia ha ormai toccato il fondo. Dal 2007, anno di inizio della crisi, con 1.238 gare per 1 miliardo e 269 milioni di euro, si è progressivamente scese di oltre il 50% fino al 2011, quando invece si era registrata una minima ripresa. Ma dal 2012 è ricominciata inesorabile e costante la discesa, che nel 2014 ha segnato rispetto al 2007 una flessione pari al 75,20%. Spiace rilevare, osserva Santo Cutrone, presidente facente funzioni di Ance Sicilia, come l'attuale governo regionale non abbia saputo invertire la tendenza. Sicuramente, precisa Cutrone, ha inciso la situazione ereditata dalle precedenti amministrazioni, ma il mancato utilizzo dei fondi europei ha fatto il resto. A ciò si aggiunge un elenco di 425 opere canterabili per 3,7 miliardi di euro, presentato a fine aprile a Roma al ministro delle infrastrutture Graziano Del Rio, che restano inspiegabilmente in stand-by, quando invece a livello nazionale si registrano dati positivi sulla ripresa del settore delle costruzioni. Al contrario, in Sicilia, anche a livello di singoli assessorati, in Calza Cutrone, non si rileva un particolare dinamismo della pubblicazione dei bandi di gara. Anzi, vengono definanziate opere da completare per coprire disavanzi di bilancio e pagare spese assistenziali, come accaduto nell'aggiunta regionale del 14 settembre scorso. Alla realizzazione della Nord-Sud è stato sottratto un importo di 87,9 milioni, che si aggiunge un precedente definanziamento di 172 milioni, già operato dall'aggiunta regionale lo scorso 20 giugno. L'auspicio, conclude Cutrone, è che nell'imminenza dell'avvio della nuova programmazione dei fondi europei, vi sia da parte della classe politica e della burocrazia una necessaria inversione di tendenza che non faccia perdere ulteriori risorse e consenta finalmente di aprire cantieri in Sicilia. L'ufficio stampa del Comune di Catania è abusivo. Questa è la critica, la denuncia che parte da lei su come si svolge appunto il lavoro e l'ufficio stampa all'interno del Palazzo di Città. C'è un ufficio stampa regolare, chiaramente come tutti gli enti pubblici. La differenza è che a Catania c'è un'anomalia, una storpiatura del sistema, in quanto questo ufficio stampa viene quotidianamente bypassato da persone che non sono autorizzate né tantomeno contrattualizzate proprio a fare questo mestiere. Noi siamo esclusivamente per la legalità e per la trasparenza, quindi se qualcuno deve lavorare deve sostituire l'eventuale ufficio stampa del Comune di Catania che venga fatto con tanto di contratto, sia perché non si deve ledere la dignità dei lavoratori, quindi dei giornalisti, e sia perché se un'amministrazione dichiara sempre che bisogna lavorare affinché tutto sia legale e trasparente, i primi ad essere legali e trasparenti devono essere proprio coloro che chiedono legalità e trasparenza. Allora su questo abbiamo più volte puntato il dito, non abbiamo mai avuto risposte, e per questo abbiamo deciso di chiedere e di istituire una commissione d'indagine nella speranza che il Consiglio Comandale si pronunci a favore di questa nostra richiesta. Il trasporto pubblico locale è verso una situazione difficilissima, a causa anche e soprattutto della Regione che non eroga i fondi destinati proprio a questo settore. Sono circa 26 milioni di euro che vanta appunto il trasporto pubblico locale e che se dati potrebbero servire a pagare gli stipendi innanzitutto e a migliorare un servizio che presenta ad oggi diverse carenze. Sì, un dato per tutti. Dal 2011 ad oggi si è passato dai 222 milioni di euro che dava la Regione a tutto il TPL, per cui urbano e extraurbano, agli attuali 157 milioni di euro, con un taglio complessivo che per quanto riguarda il TPL urbano, per cui nel caso specifico l'AMT, si parla di circa il 35%. E per quanto riguarda l'extraurbano, superiore al 20%. Per cui già questi dati ci fanno capire la situazione attuale che attraversa il TPL. Quali sono i rischi? Ed è quello che noi denunciamo. I rischi sono che si metta a rischio la mobilità dei siciliani, i livelli occupazionali e ovviamente anche il costo del lavoro. Basti pensare che le AMT non sono riusciti questo mese a pagare gli stipendi, l'hanno pagato solo il 50% e non si sa, una data certa non c'è sull'erogazione. Per cui è chiaro che noi siamo fortemente preoccupati e questo è il motivo dello sciopo del 21%. Probabilmente non ci fermeremo a questo sciopo, però abbiamo chiesto un incontro sia alla Regione che al Comune per affrontare un tema che chiaramente lo riteniamo assolutamente serio. Parlando del trasporto pubblico locale non possiamo non citare le gravissime difficoltà che sta vivendo l'AMT. È vero, i soldi alla Regione non vengono erogati, ma poi c'è forse una gestione che non sta aiutando assolutamente il trasporto cittadino. Non è facile andare a ricoprire il ruolo di governance di un'azienda quando non arrivano le risorse finanziarie, risorse che dovrebbero essere certe sia da parte della Regione sia naturalmente anche da parte del Comune che deve rispettare il contratto di servizio firmato qualche tempo fa. La conseguenza è che ci sono lavoratori senza stipendio, comunque con uno stipendio a metà e non si ha certezza neanche dei futuri occupazionali. Sì, sicuramente. I lavoratori dell'AMT siamo fermi al 50% dello stipendio erogato la settimana scorsa e naturalmente tutto questo dubbio, questa incertezza provoca altro anche che lamentelle tra l'agenda e tra l'utenza perché così si va sempre verso il taglio del servizio. Cosa chiedono i sindacati in generale sul trasporto pubblico locale? Che venga istituito con l'intervento di Sua Eccellenza e Prefetto della città di Catania un tavolo, un tavolo tecnico con il Comune di Catania, con l'assessore regionale e si vada a parlare finalmente di un trasporto pubblico locale anche integrato perché non dipendichiamo AMT, non dimentichiamo Circo Mettanea, AST che deve andare a fare l'ex urbano quindi nella futura città metropolitana si deve andare a coinvolgere tutti gli attori del trasporto pubblico, anche le ferrovie. E sulla delicata situazione che sta vivendo l'azienda municipale Trasporti di Catania abbiamo sentito il suo presidente Carlo Lungoro che punta il dito contro la regione, rea per l'appunto di non aver inviato le risorse necessarie atte a garantire un servizio ottimale per la città di Catania. Presidente, mentre si parla di mobilità sostenibile dall'altro lato ci sono i lavoratori, oggi davanti alla prefettura che fanno un sit-in perché hanno percepito solo il 50% di stipendi. Sappiamo che la maggior parte è la colpa della regione che non sta stanziando i soldi che deve all'MT. La regione non ha capito che la mobilità è come la sanità ricordatelo, la mobilità è come la sanità, lo ripeto al nord quando tagliano la mobilità o la sanità succede il fine mondo qui ci hanno tagliato i soldi, non ne hanno, non ce li danno e tutto, dico al di là dello sciopero dei miei lavoratori non succede nulla ed è grave so che il centro è impegnato in prima linea perché così non montare avanti. Rilevamento dei dati del traffico cittadino attraverso i sensori installati lungo le principali arterie al fine di favorire una volta analizzati i dati una mobilità sostenibile mediante l'utilizzo di mezzi di trasporto alternativi alle auto. Questo lo scopo del protocollo di intesa tra Comune, EMT e Università di Catania siglato questa mattina e che guarda l'attuale situazione caotica del traffico cittadino situazione a cui va trovata una soluzione mediante anche il trasporto intermodale. Grazie all'università miglioreremo il sistema di conoscenza cioè avremo i dati, i flussi di traffico collaborazione che già è in essere ma che si intensificherà poi insieme con loro cominciamo a lavorare ulteriormente per migliorare la mobilità per quanto riguarda gli studenti universitari e tutto il personale che rotatoriano all'università che è una delle cose più importanti che è a Catania ma soprattutto insieme con loro stiamo cominciando già a pensare alla rete di trasporto pubblico del futuro un futuro prossimo perché quando fra qualche mese entrerà in funzione la metropolitana e se aprirà anche al trasporto metropolitano la rete delle ferrovie dello Stato è chiaro che bisogna ripensare l'intera rete dell'azienda metropolitana Trasporti migliorare i collegamenti con i comuni limitrofi a Catania che ormai fanno parte della città metropolitana e offrire ai cittadini un servizio di alternativa all'uso della macchina privata che si chiama appunto mobilità sostenibile insieme con questo nei prossimi giorni Catania attiverà le procedure per avviare anche a Catania il car sharing e cioè la possibilità per i cittadini di poter prendere una macchina sostanzialmente con un noleggio di pochissimi centesimi per minuto e utilizzare un trasporto alternativo rispetto alla macchina propria l'università metterà a disposizione anche dei laboratori per studiare dati e soluzioni non a caso proprio l'Ateneo vuole creare delle applicazioni che possono essere usate da ogni cittadino è un non progetto di car sharing questo progetto prende il nome di Fiat Lags U e coinvolge numerose Ateneo italiani ed europee e la caso dobilistica torinese utilizzare il servizio è semplice è sufficiente che lo studente interessato acceda al sito internet www.fiatlagsu.it prenoti la vettura e poi la ritiri alla postazione del Fiat Ambassador che si trova in un'area dedicata all'ingresso del Dipartimento di Matematica e Informatica in Mia Santa Sofia 64 dal 21 settembre fino al 14 dicembre si potranno utilizzare le auto per 24 ore durante la settimana o per un weekend il servizio sarà gestito per tutta la durata del progetto da una studentessa di giurisprudenza Giorgio Colombrita la Fiat Ambassador di questa edizione è selezionata tramite un bando la mobilità e la questione dei trasporti è una questione fondamentale per la qualità della vita nelle città soprattutto nelle grandi città come Catania ci sono obiettivi di creare città intelligenti città che grazie alle nuove tecnologie possano migliorare i servizi dare qualità della vita a chi vive all'interno delle città all'interno di Catania credo che l'università intende contribuire con i propri ricercatori a tutte le politiche di mobilità noi abbiamo acquisito anche di recente attraverso progetti europei delle infrastrutture che vogliamo mettere a disposizione della città proprio per sviluppare politiche intelligenti di mobilità sostenibile ricordo anche un'altra ragione importante di questo protocollo d'intesa Catania è una città universitaria Catania ha 50.000 studenti 3.000 persone che lavorano all'interno dell'università quindi muove una parte significativa e importante di questa città allora coordinare in questo senso le politiche di mobilità offrire servizi ai nostri studenti significa anche esaltare quello che può essere davvero un valore aggiunto per questa città noi abbiamo appunto grazie a un progetto europeo acquisito delle centraline che servono a monitorare il traffico e che restituendo i dati del traffico possono consentire attraverso anche lo sviluppo di applicazioni che poi potranno essere portate sul telefonino proprio di attuare percorsi intelligenti in relazione allo stato del traffico in una data ora e in un dato luogo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie per la visione!